Il film mi sta per avviare, è entrato dentro e accomodatevi. Buongiorno, cerco il signor Zopito. Mi piace il soggetto. Ma facetemi capire, picci di quattro croc de merda, avassame chiamare Rambo. Come dei veri marmittoni in agguato, non tenemo a fare una cosa, ma le tenemo a fare buone. Vendicare gli Achille. Mi s'ha buttato così tanto la fegata che si può asciugare un pallone, si può asciugare. E che cazzo? Picci. Oh, culazzo. Mantenetevi le spalle. Arassatevi sta. Pensate a me la prossima volta che mi tocca la roba. C'è capito? Dicetemi, che mal giusto sti cazzo di capelli premi di stasera. Sempre che so fatto lo frontale, anche lo camion della munnezza. Anche le puoi. Anche le puoi. Anche i servizi. Anche le puoi. Anche le puoi. Satico sia e la lunga.